Buonasera, grazie di esserci. Allora, come sapete il Movimento 5 Stelle si presenta con un bigliettino da visita importantissimo che è quello di un programma condiviso. E' la prima volta nella storia mondiale che una forza politica fa il proprio programma grazie alla condivisione con i cittadini romani che sono gli unici ad essere i veri titolati per poter dire quali sono i problemi della città di Roma, come vogliono che questi problemi vengano risolti. Abbiamo presentato dieci aree tematiche, ne sono state scelte tre, quelle saranno le prime tre problematiche che la squadra che si presenta a Roma andrà a toccare. Oggi per me è un'emozione perché ulteriormente dimostriamo la differenza che c'è da una politica, ormai Beppe diceva, sono morti che camminano. Per noi sono belli e che sepolti, lo vediamo ogni momento, lo vediamo quando abbiamo qui davanti delle persone giovani, nuove, che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno voglia di cambiare una città con metodi, con idee differenti. Sappiamo che c'è una grande curiosità, specialmente perché il nostro metodo, quello della rete, quello della condivisione, continua a sembrare tutti una cosa sconosciuta. Invece siamo la dimostrazione che si può, che è un metodo che funziona, che esprime ogni volta tematiche, persone e idee completamente nuove. Vi prego di scusare l'emozione di alcuni che sono un po' più conosciuti, un po' più avvezzi alla politica, altri che sono completamente nuovi. Cominciamo con la più giovane che è stata votata online, è Annalisa Bernabèi che si presenta. Prego Annalisa. Esatto, vedete perfettamente che sono estranea a questo mondo. Allora, mi chiamo Annalisa Bernabèi, ho 27 anni e sono una studentessa di ingegneria, come avete potuto leggere nel mio curriculum che ho messo nel blog, e a dire il vero non mi aspettavo minimamente di poter arrivare a termini dieci candidati sindaco. Probabilmente anche questa è la forza, come diceva Paola, del Movimento 5 Stelle, sono una testimonianza diretta. Che cosa dire? Allora, viviamo in una città malgovernata che è sotto gli occhi di tutti, che è stata gestita in malamodo, quindi è il momento ovviamente di dire basta. Il Movimento 5 Stelle mi ha sempre rappresentata, rappresentata perché per me rappresenta, il mio modo di pensare rappresenta il cambiamento che io vorrei vedere per Roma e per l'Italia in generale. Nella fattispecie per Roma vorrei che fosse una città più vivibile, che desse più opportunità, che diventasse finalmente più competitiva come lo sono le altre città europee e anche del mondo. Perché come sappiamo molti giovani, testimonianza diretta, anche amici, parenti che purtroppo abbandonano l'Italia perché qui non ci sono sbocchi, non ci sono opportunità, quindi vanno altrove. E sinceramente questo mi fa anche un po' arrabbia, perché non avere qui quello che possiamo anche avere, perché è tutto possibile. Possiamo avere il rigore, la pulizia, l'efficienza che vediamo quando andiamo all'estero. E quindi darò il mio apporto fattivo ad una squadra, perché siamo tutti una squadra, per la riscoperta e la rinascita che è la città più bella del mondo. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Io sono Enrico Stefano, magari qualcuno di voi già mi conosce per l'esperienza pregressa in Campidoglio insieme a Marcello, Daniele e Virginia. Proprio questa esperienza mi ha consentito in questi due anni e mezzo di vedere da vicino come la nostra città non è governata, non è amministrata. Come i soldi delle nostre tasse sono buttati letteralmente dalla finestra, i soldi delle tasse dei miei genitori che mi hanno mandato all'università, i soldi delle tasse dei miei nonni che hanno lavorato una vita. Quindi noi ci troviamo davanti una sfida importantissima, fondamentale. Dovremo ribaltare completamente il paradigma della nostra città. Immagino, magari alcuni di voi sapranno, un tema che ho seguito da vicino è quello dei trasporti. Proprio da questo punto di vista è necessario un cambiamento radicale, un cambiamento strutturale, perché un trasporto pubblico che funziona vuol dire anche un po' l'indice della democrazia, della civiltà di una capitale come Roma, di uno Stato. E proprio appunto dai trasporti bisogna intervenire in maniera energica, in maniera assolutamente decisa. Non è più tollerabile che i ragazzi la mattina arrivino in ritardo a scuola perché l'ennesimo treno della linea B si è rotto, l'ennesimo treno della linea B della Roma Lido magari è rimasto nei depositi, l'ennesimo autobus si è guastato perché in questi anni magari in Atac non si investiva in manutenzione ma si investiva in qualcos'altro. Quindi ecco, dobbiamo tutti quanti renderci anche protagonisti della sfida che avremo davanti. Noi dal nostro punto di vista metteremo al centro la squadra, sarà fondamentale, non ci sarà una persona sola diciamo così al comando ma saremo una squadra che è l'aspetto più importante. Oggi vedete sei di noi che sono tutti e sei accanto e che tutti e sei si sono messi a disposizione. Faccio ancora un esempio sul tema dei trasporti, sul programma che stiamo sviluppando. Ci hanno lavorato tantissime persone, tantissimi attivisti, tantissimi simpatizzanti, persone che hanno messo a disposizione degli altri le loro competenze ovviamente a titolo completamente gratuito. Ci abbiamo lavorato a tutti i livelli istituzionali, dai municipi al Parlamento europeo. Quindi io non mi dilungo di più, vi ringrazio per l'attenzione, sono ovviamente felice e onorato di essere qui. Buonasera a tutti, Paolo Ferrara, già consigliere del municipio di Ostia. Abbiamo fatto un percorso bellissimo, noi siamo la bellezza della politica, siamo la bellezza di un programma partecipato che abbiamo vissuto in prima persona sul territorio di Ostia, un territorio molto difficile, ad alta infiltrazione mafiosa, un territorio dove noi abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare, tutto, gli indirizzi politici. Noi siamo stati il baluardo della legalità sul territorio di Ostia, sul territorio del municipio decimo. Ecco, il nostro programma è stato un programma condiviso fin dal 2012, un programma che ha avuto l'attenzione dei comitati, di associazioni, ha avuto l'attenzione dei consiglieri comunali che hanno portato un supporto grandioso al programma stesso ma anche dei parlamentari e dei consiglieri regionali di Roma. Ecco, questo programma vogliamo metterlo nelle mani dei cittadini e vogliamo riconsegnare finalmente a questo territorio della dignità che merita. Roma è una grande capitale e noi speriamo che possa essere rilanciata dall'azione, dalla bellezza che il Movimento 5 Stelle porterà e sta portando all'interno della politica sia nazionale ma quella anche locale. Ecco, voglio rispondere anche, ma brevemente, lo farò molto brevemente agli attacchi che sono stati fatti in queste ultime ore al Movimento di Ostia ma anche alla mia persona, strumentali da parte del solito Orfini e il solito Esposito che probabilmente devono coprire il disastro che hanno fatto in un territorio massacrato dal Partito Democratico, massacrato, la gente è disperata per colpa loro. Ecco, vi do un'altra notizia che abbiamo anche recuperato il famoso audio dove lo stesso Orfini, tra poco lo diffonderemo, sarà a vostra disposizione, dove Orfini difendeva e si auspicava una nuova giunta per il Presidente Tassone che è stato arrestato in seguito all'inchiesta mafia capitale. Lui diceva queste parole in conferenza stampa, dava copertura politica e mediatica al malaffare. Ecco, il Movimento 5 Stelle ad Ostia ha sistemato parchi, ha fatto parchi nuovi e ha messo a disposizione dei cittadini un bene, mentre loro dall'altra parte con i soldi del verde pubblico, lo sappiamo tutti, all'interno dell'inchiesta ci si riempivano le tasche. Oggi non vengono a fare la lezione morale a noi che siamo stati l'unico baluardo di legalità sul territorio di Ostia. Grazie a tutti. Buonasera, grazie. Mi presento, sono Virginia Raggi, ho 37 anni, avvocato e negli ultimi due anni, due anni e mezzo sono stata in Consiglio, in Assemblea Capitolina. Oggi sono qui insieme ad altre cinque persone, perché il Movimento 5 Stelle ci sta dando questa grandissima, grandissima occasione e opportunità, quella di far sì che dei semplici cittadini, cittadini come me, come voi, dalla rabbia, dalla protesta, dal disgusto possano canalizzare tutto questo e arrivare all'interno delle istituzioni. All'interno delle istituzioni e magari governarle e governare finalmente la loro città. Ci accusano di non avere esperienza, però tutti noi, tutti noi, siamo cittadini che abbiamo una famiglia, abbiamo un'esperienza di come si governa una famiglia, di come si conduce, si porta avanti una famiglia, si portano avanti tante difficoltà quotidiane. Ed è con voglia di fare, con buonsenso. Quello che abbiamo visto in questi due anni è stata soprattutto la mancanza di buonsenso. Quindi con onestà, buonsenso e voglia di fare si possa far ripartire una macchina che si è inceppata. E Mafia Capitale ci ha dimostrato che la macchina si è inceppata molto gravemente. La mia attività in questi due anni è stata prevalentemente incentrata sui temi della scuola e delle politiche sociali. Temi che io ritengo fondamentali, tra i tanti, perché mettono al centro i cittadini. La scuola poi mette al centro i piccoli cittadini, quelli che oggi sono bambini ma domani saranno i cittadini del futuro. Conosciamo tutti le condizioni della scuola italiana e romana in particolare. Purtroppo sono tristemente noti alla cronaca fatti tragici per cui noi spesso, troppo spesso, leggiamo di tetti che crollano, scuole che sono in situazioni pessime che debbono essere chiuse. È proprio di qualche giorno fa la notizia che un nido in zona più latino è stato chiuso perché c'erano delle infiltrazioni dal tetto. Se si fosse intervenuto qualche mese fa l'amministrazione avrebbe speso 5.000 euro. Non sono voluto intervenire, ad oggi gli interventi ammontano a 30.000 euro. Dov'è il buonsenso in tutto questo? La conseguenza è stata quella di chiudere un servizio alle famiglie, mandare e sparpagliare bambini all'interno di altre strutture che sono già piene, quindi sovraffollando classi, creando classi pollaio. Dov'è il benessere dei bambini? Dov'è la buona amministrazione? Non c'è. Non c'è nelle scuole, non c'è nelle politiche sociali e quello che noi vogliamo fare, e sembra strano però è semplice in realtà, è portare dei cittadini che sono generalmente i destinatari di una politica folle, che non si cura minimamente dei loro bisogni, a decidere cosa è meglio per loro, cosa è meglio per noi. Noi chiediamo scuole pulite, noi chiediamo scuole sicure, noi chiediamo scuole che educhino alla comprensione, all'integrazione, che educhino degli adulti che siano dei cittadini domani consapevoli. Noi chiediamo delle politiche sociali, per rimanere sui miei temi, chiediamo delle politiche sociali che non lasciano fuori, non lasciano abbandonati i cittadini, perché non ci sono soldi per garantire l'assistenza domiciliare. Chiediamo un trasporto pubblico che sia efficiente, che invogli la gente a lasciare a causa l'auto privata e a prendere i mezzi, sapendo che, come diceva Enrico, arriverà al lavoro, arriverà a scuola in tempo utile e non dopo due giorni. Chiediamo un sistema di rifiuti che parta, per esempio, dalla riduzione dei rifiuti alla fonte. È inutile avere queste fabbriche che producono cose che poi debbono essere smaltite, buttate. Ci sono tantissime cose che possiamo fare e le possiamo fare, perché, anche qui è un concetto che abbiamo detto tante volte, ma è vero, abbiamo le mani libere. Possiamo mettere in pratica, e lo faremo, tutte quelle buone idee e tutte quelle soluzioni per una città che non funziona, che servono per i cittadini, perché siamo noi i primi destinatari di quelle misure. Allora, senza entrare nei dettagli, perché poi il programma sarà in qualche modo divulgato successivamente e soprattutto deve essere ancora integrato con tutti i contributi dei cittadini, perché il nostro è un programma partecipato. Quello che è importante è che noi siamo qui oggi, perché il Movimento 5 Stelle permette a dei cittadini di entrare nelle istituzioni e governare la loro città, la nostra città. Questa è un'occasione irripetibile, che non dobbiamo lasciarci sfuggire. E noi siamo pronti a coglierla. Grazie. Buonasera, grazie, grazie per essere qui. Non nascondo una grande emozione nel trovarmi qui oggi a presentarmi. Sono una consigliera ancora in carica nel Municipio 15, ma sono soprattutto una cittadina, una cittadina che è entrata in questa, ha iniziato questa avventura inseguendo un sogno. E il sogno, dopo due anni di esperienza all'interno delle istituzioni, credo che possa essere realizzato. Perché? Perché l'esperienza maturata sul campo mi ha convinta ancora di più che cambiare questa città è possibile, renderla nuovamente vivibile è possibile, renderla nuovamente sicura è possibile. Noi abbiamo dei tesori inestimabili dall'arte ai parchi che vengono lasciati nel degrado più totale. Non c'è assolutamente attenzione per quella che è l'esigenza quotidiana delle persone. Ci ritroviamo ad assistere impotenti a situazioni di degrado familiare, permettetemi di chiamarlo così, laddove vediamo persone, individui che vivono all'interno di roulotte e dove non c'è la volontà di intervenire, così come non si interviene in tutti gli aspetti della vita romana. Il sogno credo che si possa realizzare. Il sogno è quello di ridare la certezza ai cittadini di Roma di vivere la propria città. Io con il mio lavoro ho insegnato ai giovani al rispetto delle regole, ho insegnato ai giovani al rispetto della propria cultura e delle proprie tradizioni. Ecco, una cultura è una tradizione che è andata, è stata proprio dimenticata, tant'è che come si diceva i giovani sono costretti ad andare via e ammiro veramente i giovani che insistono. Ecco, questo sogno sono convinta che il Movimento 5 Stelle lo possa realizzare e lo possa realizzare perché ha dato vita, abbiamo dato vita a un programma condiviso appunto con i cittadini, li abbiamo interrogati, li abbiamo, abbiamo noi assimilato, acquisito le loro proposte che sono poi le nostre proposte e sono le proposte che ognuno di noi può verificare sul campo. Quindi veramente un onore, un onore per me fare parte di questa squadra perché abbiamo fatto in questo periodo un lavoro condiviso, un lavoro veramente di squadra e quindi veramente siamo pronti a governare questa città perché siamo consapevoli che porteremo la voce, la nostra voce che è la voce dei cittadini e saremo veramente insieme a cercare di far ritornare a vivere questa città. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Sono Marcello De Vito, avvocato, papà di una bambina di nome Vittoria ed ex consigliere del Movimento 5 Stelle nella precedente consigliatura, consigliatura che ha davvero rappresentato l'emblema del fallimento dei partiti di destra e di sinistra, tutti davvero pienamente coinvolti nell'ambito dell'indagine mafia capitale ed oggi davvero non più credibili per un'azione di governo della città di Roma, soprattutto partiti che hanno continuato a protrarre un sistema di sprechi pazzesco che sono gli sprechi con cui sostanzialmente mantengono le loro clientele e il loro consenso. Non è irrealistico affermare che nel bilancio della nostra città, che è un bilancio da poco meno di 5 miliardi, vi sia un miliardo di sprechi che poi sono quelli che leggiamo tutti i giorni sui giornali, sono gli sprechi delle partecipate, sono gli sprechi di Atac, le partecipate che sono state utilizzate come un bancomat della politica, come un loro feudo, come il regno delle loro clientele, sono gli sprechi della Metro C che abbiamo letto questi giorni, un appalto incredibile con un impatto trasportistico ridicolo che è passato da 2,2 miliardi a 3,7 miliardi, sono gli sprechi del patrimonio immobiliare che abbiamo letto in questi giorni ma che in realtà il Movimento 5 Stelle denunciava a febbraio scorso quando l'ignaro sindaco Marino faceva la delibera di svendita del patrimonio. Quindi un miliardo di sprechi da recuperare qui è la vera forza del Movimento 5 Stelle, sta nelle nostre mani libere, non abbiamo lobby da servire, come dice spesso un nostro portavoce, l'unica lobby da servire, siamo noi stessi, siamo noi cittadini, cittadini nelle istituzioni. È chiaro che questo non sarà un lavoro semplice, un lavoro strutturale, non è facile andare a rimettere mani sulle municipalizzate, sulla gestione del patrimonio immobiliare e via discorrendo, ma è da qui che possiamo trarre le risorse davvero per ritrasformare questa città e per dare ai cittadini romani, a noi stessi, che paghiamo le tasse più alte d'Italia. Siamo l'unico comune che paga un addizionale IRPEF dello 0,9 che va ancora a coprire i debiti disastrosi che lasciò l'allora sindaco Veltroni, quindi dare veramente dei servizi degni di questo nome, partendo dal nostro programma e dal primo punto programmatico, cioè un trasporto pubblico efficiente, acquistare i mezzi che servono all'Atac, realizzare le corsie preferenziali, realizzare la semaforistica intelligente, investire in un altro concetto di mobilità, in una mobilità sostenibile, non più continuare a spendere 300 milioni di euro al chilometro per un'opera che si è rivelata trasportisticamente inadeguata, anche su quello andremo a mettere le mani. Significa investire per dare sicurezza ai cittadini romani, per dare delle strade sicure, ci vogliono 200 milioni di euro, dati Acer alla mano. Oggi a bilancio ce ne sono 40 e vengono investiti con le modalità che vediamo tutti i giorni sui giornali, quindi anche lì con affidamenti diretti. Non è normale che il Comune di Roma dia appalti, come anche Atac, al 90% per affidamenti diretti. Quello che dovrebbe essere un criterio residuale diventa la regola e così via sugli asili nido che si vuole continuare a smantellare, invece dobbiamo investire sul futuro dei nostri figli. Noi manterremo gli asili nido pubblici e così sulla cura dei servizi sociali o anche sulla cura delle periferie che sono state devastate da anni davvero di cementificazione indegna, visto che si dice che il PD potrebbe candidare Morassutta, volo a dire colui che realizzò un piano regolatore da quasi circa 100 milioni di metri cubi con cui sono state devastate le nostre periferie. Come faremo questo? Come diceva chi mi ha preceduto, lo faremo da squadra. Non porteremo avanti il concetto dell'uomo solo in fuga che già ha fatto troppi danni in questo Paese e in questa città. Basta pensare a quello che faceva Alemanno, che poi metteva i suoi amici nelle società partecipate, a quello che ha fatto Marino, che non si è accorto di nulla, nel mentre però gli uomini del suo partito, cominciando da un assessore che lui aveva scelto, stringevano legami con mafia capitale e noi tante cose le abbiamo sottolineate a Marino e purtuttavia i provvedimenti venivano approvati, quindi ragioneremo da squadra e soprattutto avremo una grande forza. Io ho sentito dire che il sindaco del Movimento 5 Stelle sarà debole, sarà assolutamente il contrario, innanzitutto perché sarà l'espressione di una maggioranza composta da un'unica forza politica, quindi non avremo i vari partitini magari composti da un solo consigliere che sono quelli che ti vengono a ricattare in sede di bilancio chiedendo degli emendamenti di Marchetta perché sennò passano in un altro partito. E soprattutto introdurremo davvero una cosa unica in questo Paese, una regola che sembra assolutamente coerente ma che non c'è mai stata. Rispetteremo il mandato che i cittadini ti hanno dato. Sappiamo bene che la Costituzione non prevede il vincolo del mandato all'articolo 67 della Costituzione ma sappiamo anche bene che la Costituzione all'articolo 54 prevede che chi serve lo Stato lo serva con onestà e lealtà. Quindi noi ci impegniamo per la prima volta in questo Paese di Volta Gabbana a rispettare il mandato che chi vota Movimento 5 Stelle dà a un consigliere del Movimento 5 Stelle. Se vuoi cambiare idea sei libero di farlo, non paghi 150.000 euro ma non passi in un'altra forza politica, ti dimetti e lasci subentrare un altro consigliere del Movimento 5 Stelle. Quindi il sindaco del Movimento 5 Stelle sarà un sindaco fortissimo perché sarà l'espressione di una squadra, di un'unica forza politica e di consiglieri che non sono dei Volta Gabbana. Grazie, possiamo prendere delle domande. Abbiamo tempi stretti quindi cerchiamo di essere rapidi sulle domande. Luca Giannelli, Tg la 7, buonasera. Dunque, le ultime notizie sul debito del Comune mi pare confermino quanto un paio di giorni fa denunciava la taberna. Ora sicuramente è un gran peso per questa città perché mi sembra un debito altissimo. La voce corrente che gira è che voi comunque non vogliate vincere in fondo. Ecco, che cosa potete fare per smentire questa voce? Sì, intanto credo che lei si riferisca al debito in gestione commissariale. Ovviamente. Quindi parliamo di circa 11 miliardi che... Ma dice anche di più, anche 14? 13,6? Insomma diceva un po'... I numeri volano. I numeri sulla gestione commissariale sono poco chiari perché noi abbiamo fatto numerosi accessi agli atti, anche ai derivati nella gestione commissariale, la gran parte del debito è di natura finanziaria, ma non siamo mai riusciti ad averli. Comunque, diciamo, la gestione commissariale, come dicevamo prima, viene appunto pagata con lo 0,9 di IRPEF, una quota a parte, lo 0,4 che, come dicono i politici, cuba circa 200 milioni e questa rata che i cittadini romani pagheranno fino al 2040 ed oltre. diciamo che la situazione non è florida neanche nella gestione ordinaria del Comune di Roma e questo perché questa giunta, la giunta marina è stata in adempiente, come anche la precedente, ha lasciato dei buchi disastrosi, non ha, come dire, eseguito il piano di rientro. Purtuttavia noi non solo siamo assolutamente determinati e vogliosi di governare la nostra città e per noi sarà un onere e un grande onore, ma soprattutto, come le dicevo prima, abbiamo individuato in questo bilancio del Comune di Roma degli enormi margini. È chiaro che non sarà solo quella l'unica direzione in cui ci andremo a muovere, avvieremo anche un confronto col Governo, anche un confronto con la Regione, che non paga dei crediti per il trasporto pubblico locale che sono di circa 600 milioni per la gestione delle tre ferrovie regionali, quindi ci muoveremo anche sull'esterno, esternamente nei confronti di Governo e Regione, però nel bilancio del Comune di Roma ci sono dei margini ampissimi, che sono quelli che dicevamo prima, del recupero delle entrate, del recupero delle entrate sulla biglietteria, del recupero delle entrate sulla tariffa rifiuti, della riduzione degli sprechi, del recupero delle entrate che ci possono essere sulla gestione del patrimonio, oppure in fase di, per quanto riguarda i fitti passivi, là incredibilmente paghiamo i massimi, se incassiamo i minimi sui fitti attivi, sui fitti passivi ci sono sprechi dell'ordine di 50-60 milioni, se paragonati in termini percentuali alla spesa che sostiene il Comune di Milano, per esempio, gli sprechi nelle municipalizzate, non sono numeri che mi invento io, che si inventa il Movimento 5 Stelle, se diciamo che in partecipate come Atac, come Ama, ci sono sprechi nell'ordine rispettivamente di 70-90 milioni, perché sono scritti proprio nel piano di rientro, che la Giunta dovette presentare al Governo al fine di ottenere i soldi del Salvarumater, poi si va a vedere in Atac che vediamo che c'è un numero di dirigenti spropositati, che prendono delle premialità e quindi dei bonus su criteri ridicoli, come in tutte le municipalizzate, come la puntualità, allora su queste cose gli si deve dare un taglio, oppure Atac affida il 90% degli appalti in affidamento diretto, questa percentuale deve essere assolutamente invertita. Ci rendiamo conto che non è un lavoro semplice, che non è un lavoro in tre mesi, che si fa in tre mesi, magari nei primi mesi avremo anche delle difficoltà e magari qualcuno vorrà metterci in difficoltà, magari per far vedere che non agiamo bene come si è tentato di fare in altri Comuni governati dal Movimento 5 Stelle, ma ce li siamo studiati questi conti, non arriviamo sprovveduti e siamo pronti per questa sfida. Posso completare la risposta? Sa perché vogliamo governare? Perché se continuiamo ad affidare la città, e le parlo da cittadina perché questo sono, se continuiamo ad affidare la città ai vecchi politici, ai vecchi sistemi partitici, non faremo altro che continuare la discesa verso il baratro. Noi siamo convinti, saremo dei pazzi sognatori, ma siamo convinti che l'unico modo per riuscire a cambiare rotta è quello di metterci noi al comando, noi al timone. Noi, e tra l'altro vi dico un'altra cosa, vi dico, in questi anni abbiamo conosciuto molti dipendenti e molti dirigenti capitolini, capaci, onesti, volenterosi, che purtroppo una cattiva politica e una cattivissima sezione dell'amministrazione ha messo ai margini, proprio perché erano troppo onesti o continuava a spostare da un servizio all'altro perché non dessero troppo fastidio. Ecco, allora noi cittadini con questi dipendenti, con questi dirigenti onesti, con voglia di fare, riusciremo a invertire la rotta e a far ripartire la città. Quindi sì, sì che vogliamo governare, caspita se vogliamo governare. C'è qualcun altro? Qualc'altra domanda? Altrimenti andiamo. Ma una sola cosa al volo, quando è che ci sarà il voto finale tra voi sei? Credo la prossima settimana sarò telegrafica, non ho altre informazioni. Certo. Buonasera, Luca Laviola del Lanza. Qual è l'avversario più temibile secondo voi, sia tra quelli delle primarie, centrosinistra, Bertolaso, Marchini? Lo chiedo a Virginia Raggi. In realtà, senza fare nomi, guardi, l'avversario più temibile è l'astensionismo. Sono quei cittadini che sono schifati da una politica terribile, disastrosa e che non hanno più fiducia che le cose possano cambiare. Questo è il nostro principale avversario. È quello che cerchiamo di sconfiggere tutte le volte in cui scendiamo in piazza o nelle varie strade di Roma con i nostri banchetti o infopoint, per cercare di far riaccostare i cittadini a una nuova idea di politica. Questo è l'avversario che cerchiamo di sconfiggere ogni giorno. Poi, naturalmente, se vediamo in che condizioni sono in questo momento le altre forze politiche, gli altri candidati, va da sé che comunque secondo me non ci sono avversari per il Movimento 5 Stelle in questo momento. Ci siamo? Sì, se posso aggiungere anch'io, davvero non abbiamo timore, non temiamo nessun avversario al netto della qualità delle persone che saranno, restando che su alcuni, come ad esempio Marchini, non l'abbiamo mai visto in aula, quindi sinceramente consideriamo poco anche la persona, ha zero presenza in commissione e quando era in aula l'abbiamo visto giocherellare col suo tablet, quindi l'abbiamo visto molto spesso in tv, ma poco nei consigli dove noi eravamo sempre presenti. La cosa che veramente temiamo è che Roma, l'unica cosa che temiamo è che Roma possa essere governata ancora dai partiti che l'hanno devastata, quindi non temiamo nessuna forza politica. Sì, ma non esistono numeri bassi o numeri alti, siamo stati scelti da dei cittadini che liberamente, in maniera ovviamente gratuita, senza cordate, senza altri tipi di iniziative, io personalmente vengo dalla periferia, ho assistito a delle scene durante magari le primarie di altri partiti veramente assurde dove magari i partiti andavano a raccattare votanti per le elezioni primarie e per veramente che praticamente si vendevano i voti per veramente per pochi spiccioli. Noi stiamo approntando un cambiamento completo di metodo, questo ovviamente richiederà del tempo, in questa votazione hanno votato al momento 3.500 persone, magari la prossima volta saranno un po' di più, ma io penso il fatto che si possa scegliere in maniera libera, in maniera gratuita, in maniera non condizionata ma semplicemente scegliendo delle persone dal curriculum, da quello che vogliono trasmettere, da quello che vogliono portare avanti, quindi in maniera totalmente neutra sia la forza più importante del Movimento 5 Stelle. Meglio 3.500 persone consapevoli che 50.000 persone che sono state indotte a votare ma neanche sapevano il perché. Ma soprattutto qui nessuno di noi è stato scelto dal segreteria di partito, direi che questo è fondamentale. Noi siamo qualcosa veramente di nuovo anche in questo, io non credo che ci sia la possibilità di fare un paragone tra quello che ha fatto la vecchia politica in questo Paese e quello che stiamo facendo noi, non esiste, non è possibile, siamo qualcosa di nuovo, andiamo in un'altra direzione, quello che loro hanno fatto è sotto gli occhi di tutti, abbiamo visto come si svolgono le primarie che sono una farsa pazzesca, insomma tutto qui. Io mi soffermo su questo nuovo modo di fare politica a cui veramente ci dobbiamo abituare, ci dobbiamo abituare tutti, che è un modo di fare politica che va oltre quello che abbiamo visto fino ad ora. Ci dobbiamo abituare a vivere direttamente le cose al di là dei numeri. Come si è detto giustamente, noi siamo qui perché liberamente le persone ci hanno votato e liberamente voteranno il candidato sindaco. Il candidato sindaco che sarà libero da qualunque altro impegno, non come si sta verificando adesso dove ancora i candidati sindaci di altri partiti mantengono ancora il doppio incarico, oppure sono quegli stessi che rappresentano una classe che ormai deve essere superata, mi riferisco per esempio all'emblema della cementificazione per esempio, quindi noi abbiamo dei personaggi, lo dico in senso non dispregiativo, perché quando si dice personaggio spesso si valuta in maniera negativa, abbiamo delle persone che in ogni caso rappresentano una continuità con quello che è stato. Allora se è vero che in questo paese c'è voglia di cambiamento, io non credo che il cambiamento possa venire da chi fino ad ora è stato a governare questa città, che si sia chiamato in un nome, in un altro, in un altro nome o che abbia fatto parte di una coalizione piuttosto che un'altra, voglio dire sempre la continuità col passato, quindi credo che la gente, i cittadini, noi per primi abbiamo voglia di cambiare e credo che il fatto che siamo qui sia veramente la dimostrazione dell'esigenza di questo cambiamento. Grazie. Un'ultima cosa, il candidato sindaco, se vince, prende in giunta come assessori gli altri candidati della Rosa che vediamo oggi, più degli esterni, qual è il metodo, come funziona? Ammesso che lo abbiate già stabilito. No, questa è una cosa che preciseremo più avanti, potrebbe essere un'aggiunta tanto in parte tecnica, quindi è possibile che ci rivolgeremo a persone, a specialisti delle materie, come anche politica. Politica, che vuol dire? Grazie. Ok. Grazie. 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 Grazie.